RENDERLE PARTECIPI Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. a cura di VB guida. Molti ragazzi, non reggendo allo strazio delle madri, ottengono il permesso di renderle partecipi della loro reale seppur invisibile presenza, con manifestazioni talvolta prodigiose. Così è anche per il bel Claudio, della vostra amica Daniela. Un momento, Claudio è arrivato qui e desidera aggiungere qualcosa per la mamma. Traduzione della scrittura automatica Mammina bella adorata, mamma mia! Sei contenta dei fiori? Quando verrò a prenderti, getterò sul capo adorato una pioggia di petali di rosa. Ciao, ciao, palletta, pallina mia! Claudio Guida Non posso aggiungere altro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti